Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di fantascienza con un personaggio complesso che affronta gravi sfide personali e morali. La sua lebra lo ha reso un emarginato e questo lo rende un protagonista insolito e interessante da seguire. La trama della trilogia, cronache di Thomas Covenant l'incredulo, dello scrittore Stephen Reeder Donaldson, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Thomas Covenant ha perso tutto, abbandonato dalla moglie e dal figlio, malato di lebra, emarginato dalla società, solo, si è ritrovato magicamente in un mondo incantato, la landa, ma non ha mai creduto alla realtà di quel luogo, doveppure la sua vita sembra tanto migliore e così è stato ribattezzato l'incredulo dagli abitanti. Quando però la landa viene messa in pericolo, Thomas non esita a mettere a repentaglio la propria vita per quella realtà che crede solo un sogno. Un originalissimo anti-eroe protagonista di una delle serie fantasy contemporanee più premiate, un autore che ha saputo dare una nuova declinazione alla narrativa di ispirazione tolkeniana. Il volume contiene romanzi La conquista dello scettro, La guerra dei giganti, L'assedio della rocca e la novella inedita in Italia Fuoco d'Aureo. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.